Ragazzi, Giussi ha preso tutta la lettera, guardate cosa ha adiato lei, ha fatto tutto lei alla lavagna, date un'occhiata a questa lavagna, tutto compito suo, quindi lei oggi ha voluto fare tutto quello che gli passava per la testa, mi ha detto Mario voglio fare tutti gli esercizi che ho imparato e firatevi che le ha imparati tutti, dagli un'occhiata all'allenamento, ci vediamo dopo, ciao! 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 Ciao!